Loro sono gli amministratori di Radio Ruvo Web e li voglio qui al centro del palco Laura e Ezio che con un applauso si sono messi in gioco e hanno voluto rivivere i vecchi momenti di una volta. Tutti quanti voi conoscete Radio Ruvo, chi l'ha vissuto, chi ha dato la dedica, mia madre diceva sempre io portavo la dedica, portavo Radio Ruvo e la signora poi me la leggeva quando ero più giovane. Allora loro sono qui questa sera, vivi e vegeti, ecco, anche se io non li conoscevo perché io non appartenevo a quell'epoca, io non esistevo ancora e mi è piaciuto tanto quando Laura e lei, Laura, mi ha detto guarda che se noi, Laura giustamente non può essere lui, quando mi ha detto guarda noi condividiamo i vostri valori perché Radio Ruvo Web oltre a diffondere musica ora lo fa virtualmente, mi auguro che su Ruvo si dia vita in una bella radio. Ecco, ma ce l'auguriamo, se è tanta buona volontà e non solo, ecco, è meglio, pensiamoci. E quindi loro mi dicevano è bello condividere con voi queste azioni perché sono nobili in una città che vive di volontariato, è una città nobile. Allora, quando ho sentito questo veramente ho sentito il dovere di ringraziarli pubblicamente, non solo su Radio Ruvo Web dove tutti quanti voi condividete pezzi musicali della vostra adolescenza o quelli che magari vi rappresentano nel momento, ma ho voluto pubblicamente ringraziarli perché loro sono quella mano silenziosa, invisibile che se non ci fosse stata noi forse non avremmo raggiunto quello che questa sera stiamo vivendo. Ecco, io lascio a te Ezio e poi magari Laura due parole, due parole per ringraziare io a voi e naturalmente per... No, sicuramente noi siamo orgogliosi e onorati di collaborare con voi, appunto con noi per voi, siamo arrivati comunque a quasi a duemila membri, abbiamo aperto il gruppo da febbraio e siamo arrivati a duemila membri ma la cosa più bella che ci dà soddisfazione è che ci sono anziani che sono entrati in radio dove postano e taggano appunto, dedicano ai propri cari la propria canzone, il proprio pensiero e ripeto, sono contento degli anziani che sono entrati a far parte del gruppo dove loro non si sentono più soli, taggando e diciamo commentando con tutti quanti gli altri membri che sono nel gruppo non si sentono più soli quindi sono contentissimi e noi veramente siamo felicissimi di tutto questo, ringrazio ancora tutti voi e buon proseguimento di questa bella cosa che state facendo insomma. Grazie a tutti voi, una buona serata e buona continuità Grazie, concludiamo con Laura perché Laura sicuramente ci darà il giusto saluto per poi continuare la serata Scusa, ha detto tutto lui Ah, ha detto tutto lui Sì, sì Comunque siamo onorati di stare insieme a voi, associazione noi per voi e il nostro è anche un volontariato, come dice Ezio, noi per la gente che postano musica, noi ci parliamo con loro tramite computer, è ovvio che la musica va fatta così e siamo felici di farlo Quando volete la nostra pagina web è a vostra disposizione Vorrei dire soltanto una cosa per chi non conosce anche Radio Lugo che basta appunto collegarsi con il social più conosciuto che sarebbe Facebook digitale appunto Radio Lugo Web Ognuno di voi si può iscrivere e quindi giochiamo insieme con la musica e non solo con la musica insomma No, abbiamo persone che sono molto membri dell'associazione, di questa nostra pagina Da dove? Dall'Africa, dall'Australia, da Milano, da Genova, da tutte le parti Quindi ci lega tutto il mondo Siamo internazionali Siamo legati Bene, grazie ancora Facciamo un applauso ai due amministratori di Radio Lugo Web che sicuramente oltre a condurre virtualmente questa radio Spero, ci auguriamo che la possano vivere veramente e aprire una bella Radio Lugo Allora, rinvito la presentatrice perché adesso è il momento di dare spazio alla musica, la musica bella che naturalmente ci darà spazio e a cui verrà dato spazio in questo momento Un applauso a Cosimo Grazie, grazie Allora, diamo spazio adesso a un momento di musica live e tanto divertimento Si tratta di un gruppo musicale, innovativo, che presenta brani di stampo folk, folk rock e world che inoltre ha vinto nel 2013 la seconda edizione dell'Umbria May Folk di Orvieto Chiamo qui con me sul parco il nostro caro amico Tommaso Summo Dov'è? Che ci presenterà il suo gruppo A voi gli A3 Apulia Project Buonasera a tutti Grazie innanzitutto ai carissimi amici di Noi per voi e di tutte le altre associazioni di volontariato coinvolte nella manifestazione Volevo spendere prima di lasciare spazio...